Ma che cacchio è questo deturpamento tra colleghi? Io non capisco proprio, cioè tra colleghi di lavoro, ma porca vacca, che notizia ragazzi, che notizia, ah madonna santa, ci vediamo in tribunale eh, mi raccomando, ci vediamo in tribunale. Allora, i dettagli esattamente non li so, magari ne parleremo bene più tardi, insomma farò un doppio video in merito, no? Quindi questa è una premessa, mettiamola così e poi ci sarà un video diciamo che spiegherà ulteriormente, quindi faccio questo video molto breve. Marco Travaglio, tanto per cambiare nei guai a livello di diffamazione, a bestia a voi, in alto insieme per i 100.000 iscritti, attiva la campanella qua sotto per ogni aggiornamento, grazie di cuore a ognuno di voi. E quindi è nei guai per motivi di diffamazione, cosa non nuova assolutamente, però battute permettendo, mica tanto perché è la verità, sta di fatto che per quanto riguarda il caso Boccia San Giuliano, sul fatto quotidiano, ha pubblicato l'articolo nel quale Alfonso Signorini, vede chi è no? Noto redattore, noto giornalista, conduttore televisivo del grande fratello, quel che è, simpatico, antipatico, quanto non mi interessa, però a livello professionale, ha accusato Travaglio a Signorini di aver collaborato con San Giuliano, per il caso Boccia San Giuliano, nel non far trapelare determinate novità. E quindi in accordo con lo stesso San Giuliano, questo deve uscire, questo no, eccetera, eccetera. Signorini, incazzato nero, l'ha prontamente denunciato. Ora, i dettagli, ripeto, non li so esattamente, ripeto, più tardi ne parleremo meglio, ma al momento è la notizia del giorno. Travaglio, allora, Berlusconi, buonanima, anni fa, ad anno zero, ti aveva elencato tutte le denunce ricevute, condanne ricevute, non condanne, denunci in generale, e Renzi è stata l'ultima da centomila. Ma quanti soldi ha da spendere lei, diamoci del lei, dai, ha da spendere lei in avvocati e in caso risarcimenti? Un po' troppo, no? Ditemi la vostra commenta.